Due parole velocissime, cambia niente? È stato eletto consigliere, un rappresentante dei socialisti. In ogni caso mi compiaccio perché quello di Giuseppe Marrotto è una persona che è conosco. Beh sì, è un ritorno. Detto questo, beh, è ovvio, umanamente, mi dispiace per Luigi Cisotta, ma con questo non cambia poi niente, voglio dire, dell'assetto, dell'equilibrio e dei consiglieri di quello che poi eventualmente succederà a voi, dal giunto. Sindaco, le possiamo chiedere come sta? Prima abbiamo visto che non stava tanto bene, ma non per le estrazioni. Sto benissimo, mi sono ripreso. Bene, auguri. Grazie. La giunta quando, sindaco? Appena ci sarà dopo, subito dopo il consiglio comunale, ci sarà una settimana canonica. Bene, aspetteremo pazientemente. Anche io, grazie.